Possiamo dire che l'attaccamento dei lavoratori italiani alla propria impresa, nella stragrande maggioranza dei casi, è una cosa positiva che funziona. Allora, noi vorremmo avere un sindacato che lotta anche fortemente con noi per tutelare i propri lavoratori, ma vorremmo avere un sindacato che non protegge gli assenteisti cronici, i ladri, quelli che non fanno il proprio mestiere. Quindi su questo io penso che sia importante andare avanti. Mi tengo inciusto ed offensivo ciò che ha detto la Presidente di Confindustria, Mercegaglia, con riferimento ai sindacati che coprono, secondo lei, i ladri. La Presidente di Confindustria commette un gravissimo errore di valutazione e soprattutto, se vuole cercare i ladri, se vuole lei, signora Presidente, cercare i ladri, comincia a guardare a casa sua. Mi riferisco a molti imprenditori che fanno parte di Confindustria e che hanno avuto parte importante nella realizzazione di quella tangentopoli scoperta con mani pulite. Se poi proprio non lo comprende cosa voglio dire, guardi proprio a casa sua, casa sua. Grazie.